Lo sport come strumento, come volano appunto per la crescita del territorio perché lo sport non ha solo una funzione così fine a se stessa ma anche un valore sociale. Siamo con Vincenzo Detto Enzo Di Gregorio, candidato al Consiglio regionale pugliese con il Partito Democratico. Di Gregorio è stato ed è sempre vicino alle tematiche e alla vita sportiva. Chi mi conosce bene sa che sono un grande appassionato di paracanestro, grazie anche a mia figlia Roberta, mio figlio Luca. È indubbio che il post-covid per le piccole società, dei cosiddetti sport minori che poi non sono minori, sta creando un notevole dramma nella società stessa. La crisi economica che ha tannagliato diverse aziende si sta ribaltando sullo sport come sponsor che mancano e così via. E anche tutte le condizioni in cui sono costrette a lavorare la società sta diventando devastante. Per cui io lavorerò nei primi mesi subito, se dovesse essere eletto, al Consiglio regionale. È una legge speciale sullo sport perché possono aiutare tutte le società in maniera che si possa ridare finalmente sfogo a tutte le problematiche che lo sport sta avendo in questo periodo. Grazie a tutti.